Draghi e il partito che non c'è, ancora. C'è un pensiero che in questi giorni solletica la fantasia di chiunque possegga una condizione anche minima dei mali atavici che affliggono questo paese. Un tarlo insistente che si fa strada come la poro verbiale goccia che scava la roccia nella calotta cranica di tutti quelli che, negli ultimi anni, hanno sottratto tempo al lavoro, alla famiglia e allo sfago personale per urlare contro i mulini a vento che il re è nudo, la terra non è piatta e, eppur si muove, senza girarci troppo intorno. Che questa sia la volta buona? Prova a ricollegarmi ad alcune riflessioni fatte sul sito di Liberi Oltre le Illusioni da Michele Boldrini e Costantino De Blasi, cercando di adottare un approccio in stile Ulisse e le sirene, ossia di provare a vincolarmi alle catene della logica elementare e alla zavorra di argomenti solidi per non cedere alla fortissima tentazione del wishful thinking. Prima ovvia constatazione. Non esiste un governo politico, perché se esistesse non ci sarebbe la necessità di chiamare un terzo incomodo che sarebbe forse riduttivo chiamare tecnico. Se non esiste governo politico, non esiste neanche la necessità di scendere a patti con i partiti tradizionali. Un governo politico, che non sia espressione di un unico partito, in genere deve mediare tra diverse anime di una coalizione. Un governo di salvezza nazionale, come quello affidato a Mario Draghi, si dovrebbe invece reggere sulla semplice constatazione che la quasi totalità delle persone che oggi siedono in Parlamento italiano non trovano conveniente a titolo personale, la prospettiva di andare al voto. In primo luogo, non conviene perché è possibile che le nuove elezioni non risolvano il problema di realizzare un Parlamento in grado di esprimere una maggioranza di governo. In secondo luogo, chi è favorito nei sondaggi dovrebbe gestire la patata bollente di un Paese massacrato dalla crisi economica, oltre che dalla pandemia, e il dilemma di un piano di ripresa europeo che, pensate un po', per autorizzare dei fondi, richiede la presentazione di programmi credibili. In terzo luogo, ovviamente, chi dei sondaggi non è favorito ha tutta la convenienza temporeggiare. Dunque, il partito unico che appoggia il governo di Mario Draghi si chiama TINA, there is no alternative. Stiamo dicendo che una persona che possiede la ricetta per salvare questo Paese da se stesso si trova nella posizione di governarlo senza dover ricercare il consenso di una popolazione che in larga misura quella ricetta non sa e non vuole e non può capire. Aggiungiamo che questo signore ha davanti un Parlamento che non può dirgli no, senza danneggiare se stesso. Possiede competenze e credibilità che hanno pochi uguali al mondo e non deve preoccuparsi di trovare un lavoro, una collocazione quando avrà terminato la sua missione possibile. Il canto dell'esistere diventa veramente forte, ma la logica e il buonsenso ci vengono in soccorso. L'ex presidente della BCE non è un pirata, né un dittatore e non potrà salvarci contro la nostra volontà. Una prospettiva plausibile, ben delineata nell'articolo di Michele, è che la maggior parte della classe dirigente politica italiana stia cercando di lasciare il lavoro sporco al tecnico di turno, con la speranza di manipolarlo per poi subentrare appena possibile e godere dei frutti del suo lavoro, nella fattispecie dei fondi europei per la ripresa. Il governo tecnico in arrivo non può compiere da solo la missione impossibile, può però creare i presupposti per impostarla, ma solo un vero e proprio partito di Draghi può realizzarlo. Parliamo di una forza politica che raccolga l'eredità morale e intellettuale di questo nuovo padre della patria che nel frattempo sarà asceso al Quirinale. Ecco il sogno che si interrompe bruscamente. Questo partito al momento non solo non c'è, ma la materia prima attualmente disponibile nella classe politica è in larga misura inadeguata. Se il partito di Draghi non esiste perché un personaggio alla sua caratura si dovrebbe prestare a togliere le castagne dal fuoco a una classe politica che, ricambiata, non lo ama e vorrebbe usarlo come strumento per mantenere il proprio status privilegiato? Forse per spirito civico, per interrompere ancora una volta la cronaca di una morte annunciata del paese che, in fondo, ama ancora. Non si può dire. Lo scopriremo solo vivendo. Ma forse quel partito può esistere e ora ci sono le condizioni che qualcuno possa metterlo in pratica. Ma dove li troviamo questi campioni capaci di scendere in campo? Dove si nascondono questi supereroi, supertecnici, supermanager e superpolitici? La risposta più semplice e razionale è che forse dovremmo smetterla di chiederci chi mi ha e riuscirà a salvarci e iniziare a rimboccare le maniche per farlo da soli. Non servono eroi. È sufficiente gente normale. Gente che sappia leggere, scrivere e farti conto. Gente che abbia dovuto lavorare per guadagnarsi da vivere e che abbia una cognizione di massima di come si sta al mondo. Decenni di selezione avversa hanno seppellito le persone oneste e capaci sotto un culo di spazzatura. La prima rivoluzione del partito di Draghi dovrebbe essere semplicemente riportarli alla luce. Non è questa l'ora di convincere un popolo martoriato a darsi la zappa sui piedi, con programmi, lacrime e sangue. È invece un momento storico nel quale l'Europa ci offre un'apertura di credito per mitigare il costo sociale delle riforme strutturali. I tassi di interesse sono sotto zero e il fronte unitario di una classe dirigente inadeguata appare diviso, fragile e pronto a spaccarsi. Tra i componenti della mia bolla sociale c'è un entusiasmo che riporta indietro di 35 anni e mi fa sentire con un entusiasmo tutto napoletano tanti contatti che cantano a scarciagola come Draghi e Meglio e Pelè. Suggerisco di stare calmi e ascoltare musica più tranquilla e magari un motivetto dolce, composto da un architetto, anche lui napoletano, che amava le favole e faceva più o meno così. Seconda stella a destra, questo è il cammino, è poi dritto fino al mattino, poi la strada la trovi da te, porta all'isola che non c'è.